ciao amici vado all apple store però c'è una novità ho finalmente trovato il modo di mettere la telecamera nascosta questo è tutto il il progettone guarda complicatissimo è e guarda qui adesso faccio un demo allora so ah sì vorrei comprare quello potete notare la mia borsa non sembra in realtà qui dentro si nasconde la microtelecamera e voi direte come è fatto è stato molto difficile attenzione con questo sofisticatissimissimo ingegno guarda sta dentro la borsa e poi c'è questo si mette qui s'aggancia che adesso lo aggancio da questa parte è tutto misurato per questa borsa va che ingegno è un po troppo largo però basta metterci un po di scotch del tubo e guarda qui poi è pratico anche brevettatissimo guarda che praticità lo mettete così girate prendete la camera lo inserite poi si chiude si può tenerlo in versione sportiva così o versione più nascosta e allora niente faccio un giro allora con la mia telecamera ascolta devo comprare solamente delle pile non che da tutto questo lavoro mi si sconsumano le pile perché mi sarebbero sono un po sconsumate stavo pensando se devo metterci anche una specie di vetrino per nascondere cioè secondo me non si veda su qualche si veda la telecamera lì c'è devi poi il commesso si deve abbassare dire ah ma cos'è quella una telecamera impossibile no allora adesso vado basta bye bye dopo il prossimo video lo faccio dal dal l'anac ciao ciao